E in arrivo a Pescara il weekend dei campionati del Mediterraneo Under 23, due giornate di sfide fra sabato 10 e domenica 11 settembre per l'evento che rientra in calendario a quattro anni dall'ultima volta dopo l'annullamento della scorsa edizione. Sono 17 i paesi annunciati, oltre all'Italia hanno confermato la presenza Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Kosovo, Libano, Macedonia, Montenegro, Portogallo, Serbia, Spagna, Tunisia e Turchia. In programma 37 gare dopo la chiusura delle iscrizioni sono state tolte due staffette, la 4 per 400 uomini e la 4 per 100 donne, oltre ai 1500 femminili. Sì, ci siamo dopo un anno di lavoro e una grande opportunità per la nostra regione, per la città di Pescara, ospitare 17 delegazioni provenienti da tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e saremo quasi più di 300 atleti. È nata con una richiesta che è pervenuta direttamente dal Presidente Federale Stefano Mey, a cui mi onoro di essere amico. È nata così, quasi per scherzo, però ci siamo ritrovati con un gruppo di amici, di fedeli, di appassionati, chiamateli come volete, e ci siamo buttati in questa avventura e speriamo di portarla a termine bene. Abbiamo Ludovica Montanaro, ragazza di Chieti, che gareggia con l'Atletica Gran Sasso di Teramo, che ha fatto una stagione fantastica, straordinaria e si è meritata questa convocazione.